Che ti hai porto da mangiare? Che c'avete di bello cardo? Qualche barcampo ma puoi far forno? No, finiti. Mozena? Mozena pure è finito. Senti, un amico mio mi ha detto che c'avete questa cosa no, questa settimana... come si chiama? Pil... til... til... Litcam! Eh? Il Litcam! Come si chiama? Litcam! Lit? Ma perché? Che c'è sta dentro? Maiate? Ma lit come in letterario! Ah! Perché c'è sta dentro i libri, ma non solo, anche le nuove tecnologie, il web 2.0 Ma sarà un po' pesante? No, tranquillo, va giù che è un piacere! Ah, vabbè fammi una spremuta di RobinGooTV bella fresca sopra perché se no non so se... vorrei che mi rimanesse lì dopo pranzo. Diretta? Si! Oh fammelo prima di sabato che se no mi vedo in diretta su RobinGooTV, no? Alla mo io lo dico! Eh, dattela! Anando! Un litcam bellocardo al signore del tavolo 3! Cori, va!